Eccoci cari amici, questo è Public Speaking Professionale, io sono Patrick Facciolo, parliamo di arte di parlare in pubblico e in particolar modo di icebreaking oppure di icebreaker quando parliamo dell'elemento di rottura del ghiaccio. Questo ormai è diventato un luogo comune del public speaking, cioè l'idea che quando cominciamo un discorso in pubblico si possa fare, si possa utilizzare una frase o un aneddoto di rottura del ghiaccio, un aneddoto che riesca a farci interfacciare istantaneamente, diciamo così, con il nostro pubblico. Ecco, ovviamente come mio solito voglio fare qualche riflessione e sinceramente non sono qua per mettermi a dirvi quattro frasette da usare sempre e comunque quando si apre un discorso, sapete come la penso su questi temi, non è il mio modo di fare formazione, quindi non mi occupo di dare ricette pronte alle persone, mi occupo di fare in modo che le persone trovino la propria via per comunicare efficacemente in pubblico. Quindi niente ricette da questo punto di vista, ma qualche riflessione utile su questo tema dell'icebreaking, della rottura del ghiaccio con il pubblico. Perché non vi do le quattro frasette da usare sempre e comunque, oppure le tre frasi da usare sempre e comunque, visto che adesso molto spesso siamo un po' bombardati da questa cosa della regola del tre di cui abbiamo parlato tanto anche all'interno di questo podcast. Non vi do le quattro frasette semplicemente perché ogni evento e ogni occasione in cui parliamo in pubblico è una relazione sempre nuova con il nostro pubblico e a priori, dal mio punto di vista, non possiamo avere delle soluzioni sempre valide per relazionarci con il nostro pubblico. Questo non vuol dire che non possiamo preparare un'apertura, l'apertura di un discorso, un icebreaker, come si dice, un elemento di rottura del ghiaccio, ma, dal mio punto di vista, dobbiamo anche essere pronti a rinunciare se poi arrivati a quel momento, in quel momento preciso, quella soluzione non è più adeguata al contesto. Se ci accorgiamo che magari quella frase che avevamo scelto per iniziare potrebbe non andare più bene, quell'aneddoto che volevamo raccontare, magari non ce la sentiamo di raccontarlo per una serie di circostanze di cui ci siamo accorti in quel momento preciso, specifico. Quindi ogni evento di public speaking è una relazione sempre nuova con il pubblico. L'icebreaker è, quindi, l'elemento di rottura del ghiaccio, è qualcosa che noi, se vogliamo, abbiamo a disposizione, ma, ancora una volta, non ci deve dominare. Dico ancora una volta perché vale per tante presunte regole di public speaking. Il fatto che io mi tenga pronto un modo per aprire il mio discorso non significa che io sia tenuto a usare quella modalità per aprire il mio discorso. E, dato che l'inizio di un discorso è uno degli elementi, è uno dei momenti talvolta anche più stressanti della nostra performance, io credo che cominciare facendo i brillanti, cioè portando un elemento di rottura con il topic, con il tema di cui vogliamo parlare, non sempre sia necessariamente la soluzione migliore. E qui torniamo un po' al tema anche di qualche puntata fa, del diritto di fare un discorso medio. E' inutile prendere questa cosa dell'icebreaking come una moda per cui tutti dobbiamo partire da qualcosa che sia dirompente. Ma attenzione, perché se non ce la sentiamo in quel momento, se l'esperienza di public speaking la viviamo come stressante, e soprattutto i primi momenti, i momenti in cui ci relazioniamo per la prima volta con un gruppo, con un pubblico, con una serie di persone che magari non abbiamo mai visto prima, ecco, prima di dire ah, vai con l'icebreaker, facciamo i brillanti, metti fuori un aneddoto fortissimo, eccetera, ma io prima mi farei una domanda su come mi sento come relatore. Mi sento disposto a espormi su un momento che è vero, che è di rottura del ghiaccio, ma che forse lo fa in maniera troppo dirompente, troppo forte, che in quel momento magari non sono pronto ad affrontare con quella disinvoltura. Ecco, io questa domanda la lascerei, perché sennò qui continuiamo a farci i film su questa idea della performance, ancora una volta, del public speaking, che sinceramente a me sta un po' stretta, perlomeno mi sta stretto, insegnare cose di questo genere, perché il mio lavoro di formatore nelle aziende, con i corsisti, è quello di insegnare alle persone a fare in modo di sentirsi confortevoli quando parlano in pubblico, e di rendere confortevole al pubblico l'esperienza della fruizione del messaggio, del contenuto che vogliamo erogare. Ma per rendere confortevole questa esperienza non bisogna per forza fare braccio di ferro con le nostre emozioni, con il nostro stress, con quello che parlare in pubblico porta con sé. Non è necessario. Quindi non sto dicendo in assoluto no all'icebreaking, sto dicendo icebreaking sì, ma attenzione al contesto, a non farci dominare dall'abitudine a doverlo fare. Il fatto di dire usiamo un elemento di rottura del ghiaccio non significa poi dover risultare altisonanti, dover fare per forza qualcosa fuori dalle righe. Un icebreaker può essere anche molto semplice, può essere anche una semplice descrizione della realtà, può essere anche il fatto di aver incontrato traffico prima di arrivare alla presentazione, può essere anche un elemento di condivisione, quindi qualcosa che riguardi l'idea del cominciamo un quarto d'ora dopo, non so se è capitato anche a voi di trovare un po' di traffico per la strada, all'altra parte in queste giornate o a questi orari capita spesso. È una piccolezza, è una piccola cosa, ma è qualcosa che cerca di creare, di generare una relazione. Non serve per forza fare i comici, gli intrattenitori, gli improvvisatori, basta talvolta descrivere la realtà. Già questa parola icebreaking ci mette nelle condizioni, anche dal punto di vista sonoro musicale, di quello che mi evoca questa parola, mi evoca dover fare qualcosa proprio di rottura. Quando penso alla rottura del ghiaccio, penso a qualcosa che si spezza. Io quando creo una relazione, penso a qualcosa che si salda, non che si spezza. E se io parlo in pubblico, creo una relazione con il pubblico, non spezzo un bel niente. Quindi, volendo, se dobbiamo preparare l'inizio della nostra presentazione, e quindi pensiamo al concetto di icebreaking, se vogliamo chiamarlo così, prepariamone più di uno magari. Uno un po' più acceso e uno un po' più morbido. E scegliamo la slide dell'icebreaker che sentiamo più confortevole nel momento in cui parliamo effettivamente in pubblico. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo per davvero nel qui e ora quando siamo davanti al nostro pubblico e scegliamo tra le slide quella con l'icebreaker più confortevole per noi in quel momento. Diamoci la possibilità di non farci dominare da questa cosa di quello che andrebbe fatto per, dalle regole. Bisogna fare l'icebreaker forte, icebreaking forte, ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto che bisogna fare? Io quando parlo in pubblico faccio quello che mi pare in relazione a come mi sento, ovviamente rispettando le abitudini della conversazione, tutto quello che ci possiamo mettere legato alla buona educazione, alle nostre abitudini e consuetudini. Ma tolto questo aspetto qui, tolto questo aspetto qui, noi siamo i public speaker e siamo liberi di scegliere per noi quello che è più confortevole per una presentazione. Quindi dicevo, prepariamone magari più di uno in modo tale da scegliere poi l'icebreaker che sentiamo come più confortevole nel momento in cui ci relazioniamo per davvero con il pubblico. Non possiamo scegliere per determinare al 100% nulla prima di essere davanti al nostro pubblico. Possiamo fare delle ipotesi e sulla base delle ipotesi preparare delle soluzioni alternative. E per concludere ricordiamoci che il ghiaccio non va per forza rotto icebreaking. Il ghiaccio si può anche sciogliere gradualmente, nel tempo. E quindi ci sta ed è legittimo fare una presentazione di public speaking in cui il ghiaccio non si rompe con il pubblico ma si scioglie piano piano nel corso dei minuti ed è tutto legittimo e non compromette l'efficacia di un discorso. Compromette l'efficacia di un discorso secondo me dal mio punto di vista stare su un piano per cui noi abbiamo predeterminato tutto al posto dei nostri ascoltatori. Arriviamo sul palco e facciamo una cosa millimetricamente stabilita prima. Dov'è la relazione? C'è una comunicazione che diventa unidirezionale dove ho i gesti preparati prima le frasi preparate prima gli aneddoti preparati prima che non vuol dire non doversi preparare ma concepire l'idea di una morbidezza maggiore per cui io preparo dei contenuti ma mi tengo anche pronto a modificarli nel momento in cui instauro per davvero la relazione col mio pubblico e sono veramente nella mia aula veramente nella mia sala conferenze. Ecco spero di aver riassunto un pochino il mio punto di vista su questo tema degli icebreaking vi ricordo il mio sito internet che è parlarealmicrofono.it per quanti di voi volessero avere maggiori informazioni sulle mie attività. Da Patrick Facciolo è tutto al prossimo appuntamento con Public Speaking Professionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.